Nell'episodio passato ci eravamo lasciati con il risveglio del nostro personaggio dentro l'infermeria. Ora quello che faremo sarà fare le missioni principali, così per liberare completamente la zona e sconfiggere Fate. Sul resto, beh, ci sto lavorando. Quindi, ricominciamo. Benvenuto. Ti piacerà la nostra squadra? Sono tutti forti, ed è un bene considerando quello che c'è dietro quelle mure. Spero che Erlo non si sbagli su di te. Stiamo tutti cercando di capire come fermare l'Eden's Gate. Secondo me si parte da Fate, o almeno è così che si fa chiamare ultimamente. Hai visto quella statua gigante sulla collina? Certo che sì, non puoi non vederla. Il buon vecchio Joseph Seed, il padre. Fate si è fatta costruire quell'abominio dai suoi schiavetti per il suo pellegrinaggio. Li hai visti? Quei poveri stronzi che marciano verso la statua? È orribile. Dobbiamo abbattere la statua. Così gli Edeniti capiranno che il loro padre non è un cazzo di Dio. È soltanto un uomo. Che ne dici? Ma andiamo a fanculo quella mostruosità. Ehi, la statua è un grosso blocco di cemento. Ti serviranno delle munizioni pesanti per farle qualcosa. O qualcosa di volante con una mitragliatrice fissa. Sei sveglio? Ti inventerai qualcosa. Merda, non ci prendo. La senti? La sua grazia si è stando in su questo punto. ...dalla luce della verità. La verità si è un po' e della nuova ci consumassero. Abbiamo ricevuto un'autore meraviglioso. La vita. Il risultato è un po' e della nostra comunità. Granata! Ok, bella. Adesso lanciarazzi di nuovo. Lo scontro alla prigione deve essere stato tosto. Allora, c'è una tre. No, non ci prendiamo un po' e della nuova ci rendita. Comeci in un po' e della nuova. sono uscissi a ok ok dai dai eccolo brutto che cazzo ok ora solo benissimo di qua bella ce l'ho fatta entra nella statua allora devo anche prendere bellissimo e io brucio tutto che cosa succede a mettersi contro la gente sbagliata che c'è occhio in alto stanno arrivando degli elicotteri no chi no gli elicotteri no merda cazzo questa sarebbe stata bella da fan 2 no come la fiume dai smeditela mi è brutto giù sa tanto ok preso saliamo sempre più in alto sempre più in alto arriviamo in cima cazzo questo mi sparò da sotto porca troia le pattuglie dicono che ci sono altri elicotteri in arrivo occhi aperti dai 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 altri elicotteri dov'è dai 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 lo faccio fuori no merda ma che cazzo ok preso il conducente beh è bello comunque vedere dall'alto sto posto devo di che non mi dispiace no no porca troia ho rischiato tantissimo sali però adesso ok rincorsa tu cosa sei? no la bibbia del padre fantastico 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 abbiamo bruciato anche la bibbia del padre sarà guasto le sue parole non capisce cosa mi farà adesso io spero che termina forte 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 non mi prenderete non mi prenderete mai ma mi sono fatto tutto quanto sto pezzo solo con la tuta l'area bellissimo e ancora va e ancora va dietro di vederti vice cosa sai del gaudio abbiamo un compito importante qui ed è fermare fate mi ha portato via tutto il lavoro mia moglie persino mio figlio tutto per quel gaudio ora sei uno di noi uno dei cougars ci aiutiamo a vicenda ora ho bisogno di te vice hai presente il nostro impianto idrico se l'è preso la setta e hai iniziato a pompare gaudio ma ti pare direttamente nell'acqua potabile che mostro devi essere per fare una cosa simile beh non la passerà liscia ancora a lungo te lo dico chiaro e tondo noi la fermeremo cosa ne dici allora ci sono tre quattro persone intanto cinque ecco altri due no ma hanno visto chi cazzo ha visto no il vip merda ok però merda mi hanno scoperto quindi niente più stealth che cazzo è che ho visto nessuno ah io invece si ok ok altro vip fuori oh che arma era ah no niente pensavo una più grossa della mia ricalibro ma no dai ok dovrebbero essere morti quasi tutti tutti quanti adesso proprio anzi sì benissimo dai dai che ci sono puoi fermare l'acqua ma non puoi fermare il gatto ehi zitto allora che devo fare che devo fare distruggi era mi sa si distruggi distruggi allora io ci butto una granata uno uno due tre tutto in fine benissimo e le porte sono aperte e qui questa era una tu fai qualcosa si ha sbotantato l'acqua eccolo merda probabilmente difenderanno le pompe ah no sono arrivati adesso convinto che avrebbero difeso la loro postazione all'interno delle pompe vuol dire che me li ritrovo quando esco che bravo che bravo sali vai sali no merda eh se stavo là probabilmente morivo completato anche acqua pulita il cappello dice devo chiederti una cosa ah vice come te la passi bene hai mai sentito parlare di un certo fini era il farmacista della città rispettato da un sacco di gente pensavo fosse un pilastro della nostra comunità ma si è scoperto che era solo uno spacciatore fini ora sta con la set li ha aiutati a creare il gaudio pare che sia la serra Jessop era un posto bellissimo prima che beh prima ora fini la sta usando per far crescere il suo veleno ci sono soltanto quei fiori del demonio il che mi fa pensare che se vai là e bruci tutti i suoi fiori beh sono sicuro che fini si farà prendere dal panico quindi questo sarà il nostro primo boss tipo simil boss magari allora negozio prima di andare avanti vediamo un po' come equipaggiarci meglio perché io praticamente vado in giro con l'M60 e la pistoletta ma se io tipo mettessi questo allora al posto di questo con un silenziatore un bel merino di precisione ho un cecchino complesso di Joseph avamposto della set liberiamo l'avamposto allora ora abbiamo anche un cecchino ho sbagliato tasto è arrivato qualcuno credo ho sentito i rumori di una macchina allora non vedo molto da questa posizione purtroppo però già qualcuno lo posso marcare comunque allora non mi sembra ci sia molta gente quindi forse no ok convinto uccidessi con un colpo invece va bene io però prima vorrei uccidere tutti ah ok no non è un tank l'avevo visto male headshot più o meno no però sta andando molto bene sta andando molto bene no mi sa che hanno trovato qualche corpo merda speriamo di non devo assolutamente allora cazzo si attiva l'allarme ok lui lui si ne va sperando che non sia il il boss boss parolone non mi fa entrare merda no cazzo vabbè ora che ho staccato tanto l'allarme mi pare molto più sul sicuro no cazzo ma c'era un'altra no lo smettere merda cazzo cazzo allora è 1 2 3 4 5 6 bene m60 ho capito il verso ha lì l'ha visto qualcuno cazzo ma questo lo sapevo ma non è servito a niente contro di me pistolina figa eccolo qua avamposto liberato e ora bruciamo le piantine un giorno fa Rachel Jessup abbia consegnato la serra alla setta immagino che non si rendesse conto di chi fossero veramente o forse non le importava pare che sia lì che hanno capito come trasformare i fiori in gaudio ne angeli i giudici la foschia tutto ha avuto inizio lì grazie a Dio l'hai riconquistata si però io dovrei assolutamente dovrei assolutamente stacca l'acqua di là eccolo qua ti do un cazzotto da quel muso brutto stacchiamo anche questo e andiamo subito con la nostra bellissima monotava bruciare anche questo campo ok ancora no elicottero no cazzo no è come fa dai non pensavo venisse con l'elicottero merda eccoci qua arrivati nel luogo in cui si trova questo fini non mi puoi vedere io sono invisibile allora là ce ne stanno due comunque uno con la torretta qua appena trovo sto fini gli sparo in testa via e cazzo niente subito la fin mezzo morto mezzo morto bene ragazzi bene ragazzi abbiamo completato anche i peccati del padre sopravvivenza estrema potenzialmente aggiunti all'inventario dice sarò sincero non pensavo che saremmo arrivati a questo punto ma stai dando del filo da torcere a Fade e lei sa che sta perdendo continua così e non dimenticarti di Burke se lo vedi portalo fuori dal Gaudio bene ragazzi abbiamo anche sbloccato nuove armi io direi che il video può benissimo finire qua come sempre spero che vi sia piaciuto o vi sia stato comunque utile se si commentate e condividete iscrivetevi al canale e alla prossima